Musica Musica Siamo la piccolina di casa Volkswagen, la versione ha tre porte, una versione molto più sportiva, molto più giovanile, più adatta magari a un single. Esiste anche la versione a cinque porte, più adatta magari a chi è famiglia, a chi è bambini. La versione black è la versione più accessorata, ma esiste anche la versione white. Musica L'app è la prima utilitaria che monta questo dispositivo in grado di frenare automaticamente in caso di distrazione da parte del contuggente, e quindi evitare un tamponamento o peggio ancora di investire un pedone. Musica In città l'app si rivela molto brillante e maneggevole con i suoi 3,54 metri di lunghezza, di cui però non risente lo spazio per i sedili anteriori comodi e a livello delle utilitarie più grandi. Su strada soddisfa pienamente il suo ruolo di cittadina, adatta anche ai viaggi, soprattutto se si è in due, nel qual caso si gode di un immenso spazio per i bagagli e di una buona insonorizzazione a velocità codice. Ottima la tenuta di strada, ma ciò che ci ha conquistati è il consumo di carburante sempre molto basso. In città si fanno facilmente i 16 chilometri con un litro, in autostrada e fuori città si superano anche i venti. In Italia la versione disponibile è 1.000, 3 cilindri, 75 cavalli e questa è la versione più accessorata che costa 12.600 euro, mentre la versione base parte da 10.000 euro. Musica Musica